Ed eccoci di nuovo qui con Stefano Turchi ed Enrico Bianchini per la seconda parte di una chiacchierata fra tifosi sportivi dell'Arezzo che ci ha visto per ora parlare in generale di quello che è l'Arezzo oggi, in questo momento. Ma ci piace anche dire qualcosa sull'immediato futuro perché l'Arezzo ha davanti due partite molto importanti che si annunciano anche spettacolari, soprattutto la prima, senz'altro quella di lunedì contro la Carrarese. A proposito, lunedì sera 20.45, mi raccomando l'Arezzo ha bisogno di voi, questo è importante. Come la vedi questa partita Stefano? Io, è una partita che si aspetta con trepidazione perché è una partita difficilissima. Quindi l'appello che hai fatto te lo rifaccio nel mio piccolo anch'io. Domenica, lunedì, scusate, bisogna essere veramente in 12. Abbiamo una curva che secondo me non ha pari in questa categoria. È una curva da serie B e anche l'ha dimostrato l'anno scorso, lo dimostra tutte le volte che si gioca perché vedi questi ragazzi che non si zittano un minuto. Quindi avere un pubblico, però sarebbe il caso che chi anche ha sentito che verrà data in tv facesse un piccolo sforzo e venisse allo stadio perché veramente lo merita la società, lo merita la squadra e sappiamo quanto è importante l'apporto del pubblico. Bisogna anche dire che il record di pubblico di quest'anno dell'Arezzo è stato un lunedì di sera con il Ponte d'Era quando c'è stato un certo pubblico nonostante che la partita venisse data sulla Rai. Sì, anche se io sono un tifoso sui generis, lo ammetto perché non condivido le norme attuali sulla schedatura di chi entra allo stadio che io devo andare col documento, però questa è una scelta mia. Comunque devo dire che il lunedì probabilmente non sembra, però è favorita dal fatto che il calcio di letto è antistico, non ci sono altri impegni e quindi probabilmente la flussa dello stadio, specialmente in C, è anche maggiore. E se tu guardi anche le partite che danno il lunedì sera in Serie C, io vedo che negli stadi c'è sempre gente. Ora, probabilmente sono partite di cartello, non ultima quella dell'altra sera che c'è stata a Pordenone Triestina, che c'era molta gente, la Trieste c'era più di mille tifosi. 1-2, Pavane l'ha vinto. Esatto. Va bene, dunque però, veniamo alla partita proprio stretta. Il discorso è, giocano due squadre completamente diverse una contro l'altra. Una ha una filosofia che dice, faccio un gol più dell'avversario e vinco. L'altra ha la filosofia opposta, prendo un gol meno dell'avversario e forse vinco lo stesso. Ecco, però sono due squadre che giocano completamente in maniera diversa. La Carraresa ha puntato tutto sugli attaccanti, ne tiene uno di riserva in panchina perché sono vecchi e quando è l'ora lo mette dentro, cioè è una cosa micidiale, tre gol, la partita di media, non sono uno scherzo. Sì, è vero, però io ricordo sempre che un grande campionato parte comunque da una grande difesa. Ce lo ricorda il... La storia del calcio. La storia del calcio. Ce lo ricorda l'Arezzo di Angelillo. Cioè, quando cominci che già non le prendi, poi quando hai gente che comunque, il bello dell'Arezzo, che ha tanta gente che può andare in gol, non ha solo il maccarone davano. A noi, Buglio, quattro gol. Gli altri, Persano, Cutolo tre, Bruno Ori. Cioè, tutti possono andare in gol. Quindi, giochiamocela, giochiamocela, perché loro sono bravi a farle, ma sono bravi anche a prenderle. Bravi a prenderle, l'avevo mai sentito dire, però Bellina, sono bravi anche a prenderle. Noi, diciamo, siamo bravini nel farle, diciamo, se ne fa lo stretto necessario, ma siamo invece molto bravi nel prenderne poche perché abbiamo la miglior difesa. Se loro hanno il miglior attacco, noi abbiamo la miglior. Che ci scappino 0-0 alla fine. La vedo dura, la vedo difficile. Certo, con ogni probabilità recupereremo Pellagatti, che per noi è una cosa importante, perché la sua esperienza ha già dimostrato di fare la differenza in molte circostanze. E l'ultimo gol preso a Novara a 30 secondi dalla chiusura ci ha fatto pensare dalla tribuna che se ci fosse stato lui in mezzo a quell'area, forse non ci fosse. Una palla sarebbe uscita sicuramente fuori dal campo, senza pensarci due volte, perché in certi momenti anche l'esperienza di un giocatore che viene dalla B non a caso fa la differenza. Quindi probabilmente la presenza di un giocatore di categoria superiore in una difesa, diciamo anche giovane, sotto un certo aspetto, fa dago della bilancia in certe situazioni di gioco. E quindi rientro tanto benvenga, insomma. Che mi dite da ultimo di Basit? Basit, questo giocatore che è il più giovane di tutti, ha talento indiscusso, perché sa fare tutto. È uno che sa smistare, sa recuperare palloni, addirittura sa tirare da fuori e colpire di testa. Ancora questo non l'abbiamo visto nelle partite ufficiali, ma abbiamo visto che va sulle palle da fermo per colpire di testa. Abbiamo visto che qualche tiro da fuori ha cominciato a farlo. È ancora un po' timido perché è giovane, via. È giovane in tutti i sensi. È un generoso, per cui gli si può perdonare. È un ragazzo, è giovane. Gli si può perdonare anche l'ammunizione presa inutilmente. Tutto gli deve servire da lezione. È un ragazzo che può crescere e può fare squadra. Quando abbiamo detto che l'Arezzo ha la miglior difesa, precisiamo una cosa, che la difesa dell'Arezzo non vuol dire che... È una fase difensiva. Perché l'Arezzo sta testimoniando di avere un gioco, un gioco ben preciso. Allo stadio ci si diverte, non come quando avevamo qualche allenatore che si arroccava proprio. Lì c'era la paura di prenderle ogni minuto. Qui hai una difesa coperta, ma il gioco si vede, un gran bel gioco durante le partite. La partita, durante la partita, se uno guarda bene l'Arezzo, a differenza di tante altre squadre in C che ho avuto modo di vedere, noi partiamo da dietro. Quindi la costruzione del gioco parte sin dalla difesa. E tu vedi che nel fraseggio che fanno, sanno quali sono i movimenti che devono seguire. E in C, una buona organizzazione di gioco, oltre a non prendere tanti gol, ti consente anche di creare occasioni. E nelle occasioni si creano. Quello indubbiamente. Più di quanti gol si fanno. Diciamo, noi le situazioni le creiamo. Adesso la chiudiamo qui, andiamo in pubblicità, ringraziamo i nostri ospiti e ci vediamo subito dopo.